Ma quanto è bella sta canzone Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Iman Oggi ragazzi siamo qua su Cooking Simulator Praticamente ragazzi mi avete chiesto di fare la carbonara Quindi ragazzi cominciamo subito con modalità sandbox Moderna ovviamente come il solito Perché ovviamente sono cannavaciola Mi serve la cucina moderna Tra l'altro ragazzi sto vedendo adesso che il video di Cooking Simulator Ho superato i 116 like Cose Grazie mille ragazzi veramente grazie mille Ok perfetto siamo già partiti Perfetto ok allora devo cucinare Quindi la carbonara Quindi ottimo Dato che non ci sono gli spaghetti utilizzeremmo le penne così Perché mi piacciono così quindi a posto Ok allora vediamo subito per fare la carbonara Cosa serve Sicuramente il pepe nero perché è quello che io metto sempre nella carbonara Perfetto ottimo mettiamo qua Ora non mi ricordo esattamente aspetta Vado a cercare gli ingredienti precisi della carbonara reale Quindi la terza cosa che mi esce Il ingredienti pizza c'è scritto ingredienti carbonara Ottimo Spaghetti non ce l'abbiamo Guanciale 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 non c'è Quindi non so cosa utilizzare Che guanciale non credo di averlo Però abbiamo Il guanciale che Pistecca fiorentina Al pollo non c'è il guanciale Ma ti pare Allora Filetto di maiale Tonno Aspetto da anatra Cioè ci sono 3000 robe Non c'è il guanciale Ma veramente Mozzarella Uovo Ok uovo Ne servono un po' di uova Quindi ne prendiamo uno Ammazza Con quella violenza in cui l'hai posato Zio Si è praticamente frantunato in 30.000 parti Ok Direi che Vabbè Uno e meno Due e meno Ok va bene Qualcosa mi dice che sarà una splendida carbonara Ottimo Prendiamo 5 uova Direi che bastano Sono per No ma magari anche 5 noce Zio Prendiamo 5 Quello utilizzeremo Uno Però va bene E' lì per vista Allora Non Non so Cosa prendere Quindi Al posto del guanciale Utilizzeremo una carne Molto simile Che prendo una bistecca Grana parmigiano grattugiato Ma non era il pecorino Zio Vediamo che formaggio C'è C'è il cheddar Formaggio di capra Melanzana Panino Formaggio reggiano Parmigiano reggiano Ok c'è il parmigiano reggiano Non ci sto credendo Tra l'altro con quale grafica Ha fatto benissimo il parmigiano Cioè la bistecca fatta da schifo Però vaniglia Vaniglia in polvere Mi mancava questa ragazzi Abbiamo anche il sale Perfetto Ci serve altro Non ci serve altro Ah pecorino romano Ah c'è il pecorino allora Vedi Pecorino romano E 20 grammi di grano Ok quindi Utilizzeremo soltanto Il parmigiano Perché il pecorino Non credo ci sia Io vado di nuovo a controllare Pe Pe Pepo Non c'è Non c'è la Non c'è pecorino Vabbè Ci arrangeremo così Allora ragazzi Io direi di cominciare subito Preparando Il L'insieme Dei tuorli Del formaggio E tutta quella roba Allora vediamo subito Prendiamo un uovo Ah e rompi Ok non l'ho visto Rompi Ok butta dentro Perfetto Ok Ok abbiamo due uova Ottimo Uova molto reali Ovviamente Parmigiano Butta No Parmigiano E' un killer Praticamente Ha ucciso una Vabbè Lasciano stare No non voglio Voglio prendere l'uovo Ragazzi Problemi di percorso Frulleremo insieme Ragazzi Perché non posso fare altro Quindi dobbiamo tagliare Una fetta di parmigiano E frullarla insieme Tanto come si taglia bene Cioè Ma neanche nella vita Non so se questi sono 20 grammi Sono 131 grammi Di parmigiano Magari sono troppi Quindi no Zio devi Allora Ecco Perché se no qua La metà di questo Devo tagliare Praticamente Ok Vabbè Vabbè Teniamo questo pezzo Ok Lo mettiamo Lo mettiamo già dentro Lo mettiamo già dentro Il coso per Per frullare Perché ragazzi Non c'è un altro modo Se non frullare le cose Su sto gioco Quindi per forza Devo frullare le robe Andiamo a mettere anche questo Perfetto A posto Andiamo a metterci Del pepe Andiamo a metterci Del sale Ok Guanciale e robe La mettiamo poi Poi dopo Vabbè Ok Direi che siamo a posto No Questo dovrebbe essere Il composto Perfetto La miscela è venuta È riuscita Direi così No Mi stai prendendo in giro Ma veramente Ma forte Mi stai prendendo in giro Zio Dai Non ci voglio credere Ragazzi Che casino Per far Vabbè Dettagli Ok Va bene Mettiamo questo qua Mettiamo Ok Frulliamo di nuovo Allora Ci servono delle padelle Prf Abbiamo una padella Mettiamo qua Dove metteremo Il nostro guanciale Quindi dobbiamo andare A tagliare Il nostro guanciale Fate finta che questo è guanciale Raga Perché non c'è Quindi buttalo Così va via la roba E poi lo riprendiamo Da per terra Giustamente Lo mettiamo qua Perfetto Allora tagliamo Mettiamo la carne Allora Si taglia così La carne Cioè tipo il guanciale Si dovrebbe tagliare In modo del genere Forse un po' più fine Senti zio Però devi tagliarti Non è che posso pregare Tutti Oh Non taglia Non taglia Non vuole tagliare Non me lo taglia Guarda Guarda Continua Prendiamo Una ciotola Mettiamo All'interno Della ciotola Quelli già a posto Si a posto Una parola grossa Ecco questi due Li devi ancora tagliare Zio Non è che Se non gli stanno Gli stanno simpatici Sti qua Allora Senti Fa un bagno Così Allora direi di mettere Il guanciale Forse dobbiamo mettere Dell'olio Madonna raga Che casino Siamo soltanto Al guanciale Raga Abbiamo solo fatto Il guanciale Per il resto Prendiamo una padella Mettiamoci dell'acqua Nella padella Ma va bene così Ma basta Basta La bistecca è praticamente Cotta Raga Ok Ora dobbiamo Metterla Pasta Dobbiamo aspettare Che si scaldi L'acqua Prima Perfetto Qua abbiamo già La miscela Ok io direi di Prendere il piatto A quanto pare Prendiamo un bel piatto Dove Si Scola pasta Ci serve lo scola pasta Che l'acqua Bregamente bolle Facciamo finta che bolla Ma Credo stia bollendo Quindi la mettiamo Mettiamo la pasta Buttiamo la pasta Perfetto Ok non deve essere Tanto cotto Perché dobbiamo poi Ributtarlo lì dentro Qua c'è ancora di più Quindi io direi che Possa già bastare Andiamo a scolarlo Si va bene Non ci facciamo problemi Facciamo finta che Questi sono Tanto Tanta pasta A fuoco spento Adesso dobbiamo Mettere questo Perfect Perfetto Ora dobbiamo Metterlo dentro Il piatto Utilizzeremo Questo piatto Eh no eh Eh no eh Aggiungiamo un po' di sale Perché non ci volevo Di farlo Ragazzi Aggiungiamo del sale Aspetta ma se io tiro Questo si spacca Ok ragazzi Ragazzi la miscela È praticamente andata A farsi benedire Noi facciamo finta Che ci sia ancora la miscela E questa è la nostra Carbonara signora Che schifo Vabbè ragazzi Ci ho provato Non tagliavo più di così Il coltello Scusate ci sono Praticamente mangi la bistecca Non mangi la carbonara La bistecca Però va bene Come da rito ragazzi Alla fine di una Di una cosa del genere Si butta il piatto Sulla finestra Che non è manco arrivato Nella finestra Non si è rotto direttamente lì Va bene Per fare una carbonara Carbonara C'è voluto Tutto sto Casino Qua Ragazzi Ci vediamo come sempre A un prossimo video Anche su cookie simulator Ragazzi mi raccomando Continuate a dirmi Delle ricette sotto nei commenti Noi ci rivediamo come sempre A un prossimo video Mi raccomando Mettete un bel like Commentate Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Se ancora non l'avete fatto Mi raccomando Seguitemi su Instagram Link in descrizione Noi ci rivediamo come sempre A un prossimo video Ciao ragazzi Beh direi che Sono già ridicolo di mio Evitiamo di ballare Alla fine del video Grazie Ciao ragazzi